Ogni anno vogliono ricordare i tre Vigili del Fuoco caduti nel svolgimento del loro operato, accaduto nel 1981 e ogni anno qui viene fatto questo ricordo. Credo sia un momento importante di riconoscimento e anche di comunità nei confronti dei valori e dei principi dei corpi dei Vigili del Fuoco. Questo momento in cui tanti uomini del Trentino sono in Friuli Venezia Giulia ad aiutare le comunità colpite dai forti temporali dei giorni scorsi. Questo avviene dopo aver portato anche aiuto in Emilia Romagna, come ben sappiamo, nelle scorse settimane. Emilia del Trentino è sempre in prima linea e c'è anche un forte senso di comunità e di unità in questi momenti di ricordo.